E adesso dobbiamo mettere mano alla riforma della scuola. Lo ha detto pochi giorni fa il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e subito nei social sono partiti i commenti più o meno ironici. Molti dicono per carità lasciate stare una nuova riforma potrebbe persino peggiorare le cose. Altri ribattono si deve mantenere fede alle promesse elettorali incominciate a cancellare la legge 107. Ma nel concreto che cosa ha davvero in mente il leader della Lega? È probabile che Salvini stia pensando ad alcune operazioni già avviate o che potrebbero essere portate a termine in tempi ragionevoli e soprattutto con poca spesa. Il primo pezzo della riforma potrebbe consistere proprio nella modifica delle regole relative al reclutamento e quindi concorsi riservati per le emissioni in ruolo e pass aperti a tutti per il conseguimento della abilitazione. Con una spesa ragionevole, peraltro i pass potrebbero addirittura non costare nulla, si darebbe una prima risposta ad alcune decine di migliaia di precari. E poi è anche probabile che Salvini stia pensando ad altre misure molto popolari da farsi a costo zero, come per esempio l'abrogazione delle norme sulla chiamata diretta e l'approvazione dei disegni di legge sulla educazione civica obbligatoria dalla primaria ai licei e sulla assegnazione di un docente specializzato in educazione motoria a tutte le scuole primarie. In campagna elettorale la Lega parlava anche di una riforma a sostegno della continuità nella scuola del primo ciclo. Si favoleggiava per esempio della istituzione di un docente tutor che segua gli alunni sia nella primaria che nella secondaria di primo grado, ma questa è una operazione molto complessa e soprattutto costosa, quindi è molto probabile che per adesso non se ne parli proprio. Su questo tema noi continueremo a seguire i lavori parlamentari e soprattutto le dichiarazioni dei ministri e del governo e quindi continuate a seguirci su questo canale, soprattutto continuate a seguirci sul portale della nostra testata www.tecnicadellascuola.it e ovviamente continuate a scriverci, a mandarci le vostre opinioni, le vostre lettere e noi ne daremo conto. Grazie. 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 Grazie.